Buon pomeriggio, signore e signori, benvenuti sul volo EasyJet 2907, in partenza per Olbia. Inizieremo ora l'imbarco dei clienti EasyJet Plus e Speedy Boarding, a seguire i clienti EasyJet Plus e Speedy Boarding, a seguire i clienti EasyJet Plus e Speedy Boarding, a seguire i clienti Ma pensa, tu mi hai lasciato amare, penso Però partiti da ori, ti avevo preso sul serio Ma penso, era una falsa partenza Nel tempo dell'atterraggio, ero finita a tuo stagio Ma già dovevo capirlo, mi hai regalato il concerto Di cremonini, tu ti sei preso il biglietto E io l'hai rimediato dai bagarini Ma già dovevo capirlo, mangiavi sushi con forchetta e coltello E ti portavo al cinema, ed ogni volta dicevi Il libro è più bello, ed ora passo il tempo Collezionando meme, con scritto serve tempo Ma non quello delle mele, il tempo di un riscatto Che pagherò nel letto, col mio prigioniero Tu mi tenevi stretto, ed ora non mi fido Volo solo last minute E guardo serie tratte da qualche brutto libro Con un bagaglio a mano, che non trasporta drammi Pagando senza meta e senza i tuoi programmi Pagando senza i tuoi programmi Ed ora passo il tempo, collezionando meme Con scritto serve tempo, ma non quello delle mele Il tempo di un riscatto, che pagherò nel letto Che ormai prigioniero, tu mi tenevi stretto Ed ora non mi fido, volo solo last minute E guardo serie tratte da qualche brutto libro Con un bagaglio a mano, che non trasporta drammi Pagando senza meta e senza i tuoi programmi Ma pensa, potevo fare anche senza Le frasi da repertorio, che tu prendevi sul serio Ma pensa, in questa nuova partenza Mi godo un altro paesaggio Pronto al prossimo viaggio